Pronto? Allora, c'è una roba attenzione più, quindi legate un sms a persone per ricordare le domande di sicurezza e vediamo il database per cui si risponde. Ah, ok. Perché io ho fatto la procedura questa per l'attivazione di... Ok. Allora, se mi può fornire un attimo il sms ricevuto. L'ultimo, stai modificando le domande di sicurezza, eccetera. Un codice. 517228. Ok, signora, la procedura di sbocco è andata a buon fine. Ma perché si era bloccata? È un problema del nostro database, signora. Ah, ok. Quindi lo informiamo di che il sbocco di utilizzare già da questo momento, soltanto per l'acqua e per il sito, sono momentanemente sospesi per tre giorni. Quindi lei da questo momento non deve più accedere né all'app né al sito, per nessun motivo, per tre giorni. La ricontattiamo noi quando potrà rifarlo. Ma le sue carte le può utilizzare già da questo momento per pagamento interiero. Ok, quindi non può operare per la banca online, diciamo. Ok, per tre giorni. Va bene, aspetta la conferma. Ma grazie. Arrivederla, arrivederla.